Burlani bentornati in questo nuovo video su Marci, oggi ci troviamo nella Big Vanilla, no non siamo nella Big Vanilla, questo è un mondo con casa mia e come ben sapete io amo Doctor Strange e amo quello che è successo con i multiversi, chi non ama il multiverso, chi non ama delle realtà alternative con dei noi strani all'interno di quelle realtà, sarebbe veramente bellissimo provare a conoscere qualcuno che è uguale a noi ma un pochettino diverso ed infatti oggi mi hanno preparato una mappa veramente stupenda perché lì c'è il portale per il multiverso e noi dovremo provare ad andare in un mondo casuale e vedere che cosa succede, però diciamo che la sfida iniziale è quella di buttarsi nell'acqua perché non avendo niente nell'inventario potrei morire, ma oggi vi faccio una super proposta, se questo video raggiunge i 10.000 mi piace, i 1.000 commenti, la settimana prossima nel video che appunto uscirà dopo che ho registrato questo qua ci sarà un modello nuovo di un oggetto che sceglierete proprio voi nei commenti, quindi mi raccomando non potete perdere questa occasione e poi il commento migliore apparirà in home page, apparirà nel video insomma vado, 1, 2, 3, mi son buttato giù ok, sono riuscito a beccare l'acqua, è già qualcosa molto bene, saper entrare nel multiverso ragazzi, nel portale che ci porterà da qualche parte è come un portale del nether ma è totalmente diverso perché mi porta in una realtà alternativa ok, 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 sono in un posto nel quale la mia casa è arancione, con le pareti rosse, delle ceste che sono tipo super glitchate e invisibile potremmo trovarci all'interno di un mondo hacker tipo in qualche modo, qua c'è una cesta, ok, c'è, sono delle litra, ci sono delle cose, c'è un piccone, ok perfetto, sky is the limit, lì c'è qualcuno, c'è una persona che mi sta guardando e ha la mia skin voglio provare a scendere, tanto le litra ce le ho, ok, scendiamo, scendiamo, scendiamo molto bene ma questo è madamarci, è il madamarci alternativo, ok, si muove come un bot, quindi bot sapevo che un giorno un altro marci sarebbe approdato nel mio universo non ti avvicinare, hai la calamita su di me, fammi andare via per favore sarebbe approdato nel mio universo e non so però se sei un impostore dimostrami di essere me, di essere marci va bene, va bene, non mi dispiace come cosa ti sottoporrò a delle sfide, se non ne completi almeno 7 in 15 minuti sarà la tua fine bello, ok, va bene, sono pronto per le, mi dici le sfide, ah, mi ha dato un libro ok, ok dimostrami di essere marci, trova la nederite nascosta crafta un piccone di nederite, crafta un telaio, trova l'osso di cagne costruisci una casa piccola con il tetto alla marci, ottieni un tavolo dell'incantesimo ottieni 32 di ferro, 64 di carbone, eccetera eccetera ottieni 16 blocchi di quarzo, crafta un nederbrick e ottieni una libreria che figata ragazzi, comunque questo madamarci alternativo è parecchio pauroso mi sembra un video super mega horror, madamarci sei pronto? direi che sono prontissimo per questa mega sfida signor madamarci dell'universo di minecraft, non so quale, molto strano e particolare però devo essere sincero, ha scelto dei bei colori per la casa perché tutto sommato la caccia col verde funziona molto bene e bene, sono pronto! hai ancora 15 minuti per fare le sfide allora da cosa partiamo? partiamo da leggere le sfide crafta un piccone, crafta un telaio che mi sembra la cosa più semplice craftiamo un telaio ragazzi, il telaio si dovrebbe fare con 4 stringhe e del legno però mi serve del legno di oak dove lo trovo il legno di oak raga? questo potrebbe essere un leggero problema secondo me vediamo se prende anche il warped stem se non prende il warped stem dobbiamo trovare una cosa alternativa che non penso troveremo in questo posto facciamo così, no, è tipo così, no si me l'ha preso, ok il loom ce l'abbiamo che sarebbe il telaio benissimo, prima sfida effettuata dopo 30 secondi costruisce una casa piccola con il tetto alla marcia interessante, trova l'osso di cagne allora l'osso di cagne secondo me è in casa e ho già in mente dove può averlo messo per nasconderlo quindi io direi che torniamo subitissimo in casa e ci siamo andiamo giù andiamo giù che strano ragazzi è tutto glitchato c'è una cesta ogni tanto questa cosa non è il massimo devo essere sincero io penso che l'osso di cagne sia esattamente qua eccolo, eccolo qua osso di cagne cagne mi manchi tantissimo porca miseria va bene, possiamo scendere possiamo perché c'è un panda raga? c'è un panda? what? non è che il panda serve a qualcosa se lo clicco mi dà qualcosa? pandino, io non avevo un panda pigiama ma no, ma pigiama è un piccione ma mi scusi lei ma è un piccione pigiama benissimo, andiamo avanti io direi che facciamo la casettina la marci piccolina che ci ha chiesto e poi ci dirigiamo subitissimo in miniera quello che mi preoccupa un pochettino di più è come farla a casa perché effettivamente a me servono parecchi blocchi io potrei anche smantellare potenzialmente una di queste case qui e farla sopra a queste qui però no voglio farla decente ho 13 minuti ho tutto il tempo del mondo per provare che cavolo è appena succedo? questo mondo è strano questo mondo è strano ragazzi ve lo garantisco perché ho iniziato a volare senza motivo 13 minuti come siamo messi qua? ho 17 blocchi siamo a un 2 stack perfetto la faccio qui la casettina raga mi metto qua sopra vicinissima al portale eccoci qua la facciamo qua bisogna fare scala scala blocco scala scala blocco scala e poi scala blocco e poi questo dovrebbe essere il centro perfetto io poi stessa cosa faccio anche da questa parte questo non me l'ha messo giusto perché ho sbagliato io evviva non ce la farò mai ragazzi a far tutta la casa penso eh facciamo così ma se io faccio solo il tetto di mostro che ha fatto la marci va bene lo stesso secondo voi per me no però va bene così ci ho voluto provare così e così facciamo che la casetta è minuscola dai ci sta secondo me la casetta la facciamo minuscola tipo che è grande 2 tanto alla fine deve essere una casa no e noi facciamo la casa la facciamo e nessuno ha detto che non la facciamo ok facciamo così e facciamo così molto 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 bene devo fare un sacco di altre scale ne ho la bellezza di 20 di scale quindi devo fare così così e così non basteranno mai ragazzi 10 minuti per trovare anche dei diamanti devo farne almeno 7 se non ne faccio 7 di sfide siamo finiti ho come il presentimento che ehm devo fare delle scelte su che su che cosa fare banalmente oh what che spavento raga mi da mi da degli effetti strani sto mondo ok prendi prendi tutto prendi tutto raga a 9 minuti mi muovo per andare a fare altro però penso che questa casa qui sia un punto facile da fare quindi mi conviene farla prescindere molto bello ooooo mamma mia la velocità con il quale sto facendo tutte le cose marci la leggenda dei tetti aaa qua muoio porca miseria ragazzi stavo morendo stavo letteralmente io se salto adesso muoio se salto adesso muoio ok no ok era solo un salto veloce mamma mia raga mamma mia ok 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 no sto facendo dei danni raga sto facendo dei danni così e così perfetto e qui dovrebbe collegarsi esatto ce l'abbiamo fatta raga abbiamo fatto il tetto alla marci e abbiamo sprecato meno tempo del previsto dai non è così male come cosa però non posso sbagliare perché se sbaglio è un disastro veloce 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 sono sicuro che ci andrà bene ti vedo arrugginito ma come ti vedo arrugginito marci ooooo sto correndo come un matto sto correndo ma che stai a dio ma non ti permette oh non te ne devi permettere di fare di sta cosa ok 9 minuti devo tornare anche dei diamanti ragazzi ma come fo ma come fo ci vuole un sacco per fare queste sfide forse 15 minuti per farle è veramente cattivo forse voleva metterci proprio alla prova per questa cosa qua ok ok e ok dai questa qui ci sta che è storto il tetto alla marci è stato fatto io penso che lui ce lo conti buono quindi andiamo avanti abbiamo fatto il loom facciamo così per determinare la casa e andiamo direi subitissimi in miniera direi che è l'opzione migliore adesso io non mi ricordo qua non so se è il mondo della big vanilla come seed quindi io a questo punto sapete che vi dico io scendo brutal subito spero di trovare qualcosa e se non trovo qualcosa sono cacchi se non trovo qualcosa sono veramente veramente cacchiolini scende marci c'è oh quarzo quarzo marciwitz raga devo fare una missione col quarzo ho trovato il quarzo a me sinceramente sta cosa va più che bene non so cosa ne pensate voi ma a me questa cosa va più che bene altro quarzo altro quarzo altro quarzo raga che hit quanti ne devo fare di quarzo 16? ce li abbiamo tutti raga ce li abbiamo tutti ok perfetto guarda quanto quarzo che c'è qui quanto devo farne di carbone tipo 64 una roba di questo tipo il carbone conviene prenderlo direttamente in questa altezza qui perché poi dopo si rischia di non averne più ok io sto facendo sto avendo levitation no quanto ne devo trovare di carbone fatemi controllare ne devo fare 64 io ho questa sfida qua è quella che vedo più dura sinceramente ok va bene va bene devo trovare altro carbone uh ho trovato una caverna non male non male la caverna non male la caverna comunque abbiamo fatto anche la quarta sfida che era il quarzo eh non vorrei dire questa cosa molto bene ci conviene andare a cercare anche il diamante perché se noi troviamo tre diamanti potenzialmente riusciamo a fare il piccone di nederite in qualche modo o sbaglio no non mi sbaglio per niente marci ok qui abbiamo anche questo io ancora con sto super salto questi effetti malefici che ci sono in questo mondo li odio non li sopporto ok 63 ci manca solo un pezzo di carbone dai un pezzo di carbone porca miseria uno solo e dai eh e dai eh un pezzo di carbone no dai eh per favore eh non farmi brutti scherzi gioco gioco non farmi brutti scherzi non sto trovando il carbone raga un pezzo me ne serve un pezzettino numerato e dammi sto pezzo di carbone perché sopra non ci sono poi ok qui quanto ne ho di ferro ne ho cinque pezzi va bene va bene cinque pezzi eh sto giorno non ce n'è di carbone raga rischiamo di mi provo a buttare qui ok io mi butto raga chi se ne frega ma ora che c'è tutto il quarzo in giro che strano sto posto è tipo totalmente strano ok qui abbiamo l'apis molto bene l'apis diciamo di avere subito 32 ne abbiamo 43 di lapis bello bello raga bello 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 allora non ci può dare tipo un aiuto a sto tizio qua a darci tipo fortuna o tipo tipparci su per caso cioè mi sta dando cose brutte mi sta dando degli effetti brutti ma può darmi anche degli effetti belli ogni tanto no niente effetti belli niente mi sa che mi sa che non ci aiuta raga mi sa che non ci aiuta mi sa che anche 64 di di ferro non riesco a trovare raga ne ho solo 16 come faccio raga è impossibile è impossibile devo trovare del diamante mi servono 3 diamanti per fare il piccolo di diamante per poi fare quello di nederite e di conseguenza poi andare a cercare il piccolo di nederite sopra perché io penso che sopra ci sia qualcosa di nederite che ho lasciato nelle ceste ok diamante non ne vedo diamanti please non riesco a fare la missione quella di tutti i minerali raga perché mi chiede veramente troppa roba cos'è che ho da fare altro costruisci fatto lasso fatto te l'hai ho fatto di qua devo fare la libreria il neder brick che posso fare volentierissimo mi serve semplicemente del legno ok legno ce l'ho ok posso fare così in teoria dovrebbe essere che si cuoce della neder rack se io cuocio la neder rack dovrebbe darmi il neder brick uh c'ho la speed raga bella finalmente una cosa positiva ecco è durata due secondi ci ho sperato io ok è tornata perfetto mi serve del diamante mi sto diamante dove lo trovo un diamante porca di quella miseria siamo troppo bassi secondo voi no dai secondo me è giusto cos'è che c'è chiesto un neder brick o un neder brick block craft un neder brick ok allora tecnicamente ce l'abbiamo dobbiamo solo tornare su in qualche modo adesso devo solo tornare su in qualche modo perché non ho modo di fare nient'altro devo trovare il diamante però mannaggia neder brick fatto anche questo raga fatto anche questo allora prendo la redstone prendo la redstone che secondo me ci può stare dai continuo a prendere qualcosa sperando che mi esca del diamante dietro qualcosa la mia unica preoccupazione è proprio questa che devo cercare di salire in qualche modo adesso scrivo signor madamarci io sono un cittone mi potrebbe tipare su dai 4 minuti ragazzi ci potrebbe stare come cosa posso andare qua sotto e adesso c'è il diamante perché qua siamo giù in teoria vediamo se c'è qualcosa qua sotto ti prego un diamante 3 diamanti mi servono 3 diamanti io non ne vedo di diamanti ciao signor madamarci signor madamarci mi sta portando dei diamanti mi sta portando dei diamanti palese come cosa no non mi ha portato dei diamanti sono un cittone mi può aiutare a salire per favore 3 minuti e 30 raga impossibile non ce la farò mai quante ne ho fatte 1 2 3 4 5 devo tornare su devo tornare su in qualche modo faccio il pillaroni esagerato oh diamanti non ci credo ma è 1 no 2 me ne ha dati non ci credo raga 2 diamanti mi stava aiutando perché sa che sono un vero e proprio cheat wars devo tornare su per favore io lo scrivo signor madamarci io sono un città altri diamanti raga ce l'ho non ci credo altri diamanti devo salire sali 2 minuti e 59 9 per salire ce la possiamo fare ce la possiamo fare lui non ci vuole aiutare non ci vuole tippare sopra questa cosa non la capisco minimamente 2 minuti e 51 2 minuti e 51 ce la posso fare ce la posso totalmente fare perché c'è della clay qua mai vista la clay in questo modo ok sto salendo benissimo a che livello sarò ragazzi sarò a livello basso mamma mia mamma mia mamma mia non ce la farò mai non ce la farò mai non ce la farò mai proprio proprio mai 2 minuti e 40 che livello sono sono a livello 5 no non ce la faccio se non mi aiuta lui non ce la faccio raga se non mi aiuta lui non penso di farcela molto 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 bene però dai ci sta non è un cheaters io me lo aspettavo più cheaters come me però mi sa che il mondo in cui siamo non è un mondo di cheaters estremi 25esimo livello potenzialmente ce la potremmo anche fare ragazzi potenzialmente ce la potremmo anche fare non so come forse all'ultimo secondo però devo fare anche lo smite in table devo cuocere il ferro non ce la farò mai non ce la faccio minimamente non ci posso credere ragazzi morirò nel mondo è su lui è su mi ha fatto un buco non ci credo 1 minuto e 47 forse 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 ce la potrei fare aspetta io ce l'ho il firework andiamo con il firework perché perché mi sta portando su così ok va bene va bene va bene ma questa è una cosa enorme raga mi sta aiutando un botto però mi sono bloccato porca miseria quando è che finisce sto levitation aaaaaa 1 minuto e 20 di follia ragazzi è 1 minuto e 20 di follia devo mettere a cuocere assolutamente il ferro che ho ok qui non ho non ho fornace non ci posso credere che non ho una fornace non ho una fornace non ci credo non ci credo non ci credo devo mettere a cuocere allora allora facciamo così mettiamo a cuocere non ho per cuocere raga non ho per cuocere non ci credo non ci posso credere non posso cuocere niente non ci credo perché ho lasciato tutto il carbone giù qualcosa nelle chest non è che ha nascosto qualcosa nelle chest qua niente qua ce n'è una la nederite la nederite raga non ci credo lo smiting table ce l'ho oh mio dio aspetta ce la posso fare ce la posso fare ce la posso fare fermi tutti fermi tutti stick stick diamanti stick diamanti ok devo scendere in 38 secondi è all'ultimo fiato questa cosa così e così ragazzi oh mio dio ne abbiamo fatte una due tre quattro cinque sei con quella della nederite trovata e sette con il neder brick all'ultimo seconda abbiamo fatto tutto non ci credo eh si ragazzi ce l'abbiamo fatta hai completato non ci credo non abbiamo fatto craft no abbiamo fatto no non ci credo otteno un taro degli incantesimi otteno una libreria potevo farle tranquillamente qua ragazzi bastava che rompevo queste cose qua e le ottenevo ragazzi è stato un video incredibile bravo ti sei dimostrato un marci denio del suo nome grazie grazie se volete ragazzi proveremo ad esplorare un altro universo sarebbe bello esplorare tipo l'universo di un altro youtuber sei sempre il benvenuto grazie però io adesso me ne voglio tornare a casa sinceramente perché mi fa un po' paura questo posto se posso dire la mia me fa un po' di paura quindi me ne torno a casa e io ti saluto adios madamarci stranissimo con un panda di nome pigiamo ehi adesso sei tu che dovrai fare delle sfide per rimanere qua dentro